Buongiorno da WTV News. Oggi, 23 maggio, San Desiderio di Langue. Oggi ricorre anche la giornata mondiale delle tartarughe, istituite nel 2000 con lo scopo di aiutare le persone a celebrare e proteggere le tartarughe in via distinzione e il loro habitat, nonché per incoraggiare l'azione umana per aiutarla a sopravvivere e prosperare. Uno studio sulle effetti delle giornate di sensibilizzazione sulla biodiversità ha elencato questa giornata come esempio di come aumentano il traffico di ricerca sul web sulle specie protette. La giornata mondiale delle tartarughe viene celebrata in tutto il mondo in vari modi, dal travestirsi da tartarughe o indossare abiti estivi verdi, al salvataggio di tartarughe catturate sull'autostrada e all'attività di ricerca. I programmi di lezione e i progetti di artigianato del Tartal Day incoraggiano l'insegnamento del mondo delle tartarughe nelle classi.